Chi mi segue da un po' di tempo sa che ho una certa predilezione per i film biografici e questo mi porta sempre ad approcciarmi in maniera propositiva e in maniera curiosa nei confronti di questi film però purtroppo c'è anche il rovescio della medaglia in alcuni casi le aspettative non vengono rispettate purtroppo e il film tende anche a deludermi in alcuni casi purtroppo questo è il caso del film di oggi adesso sigla e poi partiamo ed allora bentrovati in questa nuova video recensione prima di iniziare come sempre vi ricordo le due cose alle quali tengo particolarmente la prima iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ed attivate la campanella in questo modo mi aiuterete a far crescere ancora di più il canale ed inoltre rimarrete aggiornati su tutti i prossimi contenuti quindi cliccate sul tasto iscriviti e poi cliccate anche sulla campanella inoltre seconda cosa se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente facendo i vostri acquisti su amazon io vi invito a farli utilizzando il link che è presente qui in descrizione è un mio link di affiliazione se voi lo utilizzate vi si aprirà una schermata amazon perfettamente normale non vi cambierà completamente nulla e soprattutto non spenderete un centesimo in più ma qualunque sia la vostra spesa anche non necessariamente a tema cinema una piccola parte di quest'ultima verrà girata da amazon al sottoscritto quindi questo è un altro modo che avete per potermi ulteriormente supportare qualunque acquisto vorrete fare su amazon io vi invito a farlo utilizzando il link presente in descrizione ma passiamo a parlare del film appunto che voglio recensire oggi un film che mi aveva incuriosito particolarmente già con la pubblicazione della locandina poi con le prime immagini ufficiali poi chiaramente anche con il trailer quindi tutto questo mi aveva portato ad avvicinarmi come dicevi in maniera propositiva in maniera curiosa nei confronti di questo biopic purtroppo vedremo non tutto è andato per il verso giusto il film in questione come potete vedere dal titolo del video è Respect con Jennifer Hudson protagonista principale ora io farò una recensione priva di spoiler però è anche vero che stiamo parlando di un film biografico come sempre succede nel momento in cui parliamo di un film basato su una storia vera che racconta la vita di un personaggio realmente esistito in questo caso Aretha Franklin il rischio spoiler è comunque relativo nel senso che basterebbe davvero fare una rapida ricerca su wikipedia per sapere tutto del personaggio in questione a patto che già non lo sappiate stiamo parlando davvero di una delle più grandi cantanti che siano mai esistite nella storia dell'umanità quindi vabbè il rischio spoiler è comunque relativo però ne parlerò del film non in maniera dettagliata per quanto riguarda proprio la componente narrativa non andrò a spoilerare determinati momenti del film però farò un breve cenno di trama e niente più infatti il film comunque si propone di raccontare la vita di Aretha Franklin parte diciamo partendo dall'adolescenza, dall'infanzia con una bimba, con una piccola Aretha Franklin che è già talentuosa mostra tutto quello che è il proprio talento canoro soprattutto con un padre particolarmente oppressivo ossessivo nei suoi confronti perché la fa esibire nelle feste di famiglia la fa esibire anche in chiesa vuole comunque che la sua strada porti verso il canto ma decidendo lui che cosa fare tra l'altro una vita purtroppo da bambine da ragazzina di Aretha Franklin che non è neanche particolarmente fortunata perché purtroppo è costretta anche a subire delle violenze tra l'altro con una gravidanza da bambina a 12 anni credo una cosa del genere chiaramente il talento rimane immutato ed è proprio questo che le permette poi con il passare degli anni di cominciare ad affermarsi nel mondo della musica anche in quel caso non è semplice però poi diventerà Aretha Franklin ovviamente e con una vita privata anche in quel caso che avrà dei risvolti drammatici e tragici non da poco perché avrà una vita matrimoniale non semplice sarà circondata da persone che non sempre vorranno il suo bene però nonostante questo come dicevo lei riuscirà comunque a decolare a spiccare e diventerà quella che noi oggi sappiamo essere una grande divinità della musica internazionale la dea del soul una della regina del soul come viene chiamata oggi mi fermo qui nel raccontare appunto la trama non voglio andare oltre un film che come dicevo purtroppo non mi è piaciuto non mi ha entusiasmato è un film che pensavo riuscisse a darmi di più di quanto in realtà poi mi ha saputo dare probabilmente avevo delle aspettative alte però è anche vero che non è che mi aspettassi chissà quale capolavoro più che altro più che altro io mi aspettavo un buon film perché? perché il soggetto di base è rappresentato da un personaggio Aretha Franklin che è un personaggio a tutto tondo è un personaggio molto interessante è un personaggio la cui vita pubblica e la cui vita privata soprattutto si prestavano per la realizzazione di un film tra l'altro ricordiamo Aretha Franklin è stata anche un'attrice per esempio in The Blues Brothers tra gli altri quindi era un personaggio che si sarebbe diciamo avrebbe avuto la possibilità di prestarsi per la realizzazione di un buon film e questo secondo me non è successo non è successo in questo film vedremo ci sono diverse problematiche però ci sono anche dei punti di forza devo dirle e quindi partiamo da questi perché comunque non tutto è da buttare il primo punto di forza che mi viene da considerare sicuramente rappresentato da Jennifer Hudson nei panni di Aretha Franklin lei è bravissima ma non la scopriamo certo adesso è una brava attrice è una bravissima cantante e anche in questo caso l'abbiamo già ammirata in film del passato a partire da Dream Girls per esempio ma in realtà Jennifer Hudson è l'unica probabilmente che si salva in quella monnezza gigantesca che è Cats anche da un punto di vista canoro quindi non avevo dubbi al riguardo non avevo dubbi che da un punto di vista di quella che è la parte cantata avrebbe avuto la capacità di dare il meglio di sé e le canzoni di Aretha Franklin si prestano anche da questo punto di vista ed infatti proprio il comparto musicale probabilmente rappresenta l'altro punto di forza del film però qui Bonshi 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 Franklin sono delle meravigliose sono dei meravigliosi capolavori quindi sfruttando quelle canzoni è chiaro che il comparto musicale ne avrebbe tratto giovamento anche se devo dire nonostante questo quindi nonostante le canzoni siano ovviamente splendide e splendidamente interpretate da Jennifer Hudson probabilmente probabilmente non sono state sfruttate a dovere soprattutto quelle più famose non sono state sfruttate a dovere nel contesto del film dovevano essere contestualizzate meglio dovevano essere costruite meglio soprattutto poi nel momento in cui vengono ideate non tutto è andato per il meglio e questi sono problemi tra l'altro relativi vedremo alla sceneggiatura perché il film è stato costruito male secondo me già di partenza avevano un buon soggetto a disposizione la vita di Aretha Franklin e l'hanno sfruttata malissimo probabilmente sarebbe stato meglio puntare alla pancia dello spettatore sarebbe stato meglio puntare alla spettacolarizzazione tra virgolette sarebbe stato meglio anche sfruttare le canzoni di Aretha Franklin in maniera migliore un po' come succede per intenderci in altri due film tra l'altro relativamente recenti segno tra l'altro di una tendenza in questo momento ben precisa cioè quella di realizzare dei film su dei cantanti famosi tanto che infatti abbiamo avuto Bohemia Rhapsody che racconta la vita di Freddie Mercury e dei Queen e poi successivamente Rocketman con la vita di Elton John chiaramente nessuno dei due è un capolavoro anzi tutt'altro Bohemia Rhapsody ha tutta una serie di problemi anche proprio di sceneggiatura di messa in scena per me è un grande film proprio da un punto di vista emotivo però ha dei problemi ma funziona per quanto riguarda il coinvolgimento per quanto riguarda proprio la possibilità di sfruttare le canzoni dei Queen stessa cosa per quanto riguarda Rocketman Edelton John questo avrebbe avrebbe permesso a Respect di funzionare un po' meglio questo invece non è stato fatto e quindi nonostante le canzoni rappresentino da un punto di vista quello che è probabilmente uno degli aspetti positivi del film dall'altra parte però sono anche un difetto i difetti secondo me sono anche molto più come dire numerosi degli aspetti positivi la sceneggiatura secondo me fa acqua da tutte le parti è una storia che ripeto potenzialmente molto interessante che è stata trattata con i piedi molto lenta molto farraginosa soprattutto nella parte iniziale potevano sfruttare meglio proprio anche la vita privata di Aretha Franklin una vita drammatica tragica per molti aspetti e così non è stato fatto sono state buttate lì a caso anche quelle che sono stati i momenti di coinvolgimento di Aretha Franklin nei movimenti di attività politica o comunque sociopolitica con Martin Luther King per esempio anche lì momenti buttati lì senza né capo né coda potevano anche in questo caso funzionare meglio e così non è stato la vita privata di Aretha Franklin ripeto non voglio fare troppi spoiler ma ha avuto una vita drammatica anche da quel punto di vista un marito violento non funziona non funziona neanche quello non è funzionato neanche quello così come neanche la componente pubblica neanche quella che poi è stata la carriera di Aretha Franklin viene esaltata a dovere forse soltanto nel finale si ha un picco di emozioni un picco anche da un punto di vista della storia ma è troppo poco è troppo poco per un artista del genere tra i difetti del film purtroppo devo anche elencare quelle che sono state le altre prove attoriali a fianco di Jennifer Hudson non funzionano ma tra l'altro abbiamo anche grandi attori abbiamo Forrest Whitaker un premio Oscar che purtroppo anche in questo caso in questo film non riesce a dare il meglio di sé ora io non ho come dire ho avuto la sensazione che il problema fosse sia di sceneggiatura di scrittura dei personaggi ma anche di regia perché sono state date secondo me delle indicazioni sbagliate dagli attori che infatti sono andati in overacting si suol dire cioè hanno dato hanno dato vita delle prove attoriali sopra le righe eccessive che non avevano motivo di esistere non c'era motivo di recitare in questo modo sono diventati delle macchiette sono diventati dei pupazzi quasi delle prove che non sono state in grado di comunicare nulla né da un punto di vista narrativo né da un punto di vista emotivo quindi prove attoriali scadenti purtroppo lo devo dire prove attoriali che non mi hanno convinto e che non mi hanno comunicato nulla poi il film secondo me non funziona neanche da un punto di vista registico ho avuto già modo di dirlo né da un punto di vista del montaggio è un film dal ritmo altalenante eccessivamente lento in alcuni momenti eccessivamente rapido in altri tende anche a in qualche modo far risolvere delle situazioni in modo particolarmente brusco senza che questo possa avere una spiegazione anche logica e razionale vengono toccate delle tematiche come dicevo poc'anzi anche potenzialmente importanti il movimento dei afroamericani con Martin Luther King quindi contro il razzismo negli Stati Uniti ma anche quello viene poi risolto in maniera molto rapida chiaramente si vede la morte di Martin Luther King questo non è uno spoiler perché è un evento storico ma anche lì purtroppo tutto viene in qualche modo srotolato in modo rapido in modo in modo lento a seconda dei momenti senza che questo riesca in qualche modo ad arrivare allo spettatore è un film che già sta sbiadendo dalla mia memoria nonostante io l'abbia visto pochi giorni fa davvero un giorno dopo l'uscita un film dal quale mi aspettavo molto di più purtroppo non è stato in grado di regalarmi nulla se non qualche momento musicale se non appunto la prova di Jennifer Hudson e questo mi dispiace mi dispiace davvero perché il potenziale era elevato si poteva fare molto di più si poteva sfruttare una grande attrice e cantante come Jennifer Hudson per una grande artista una grande attrice e cantante come lo era Aretha Franklin quindi un'occasione sprecata forse sì probabilmente non so se verrà fatto più un biopic su Aretha Franklin in futuro un'occasione sprecata sicuramente un film che avrebbe avuto la possibilità di dare molto di più un film che non so se in realtà poi da un punto di vista né della critica né per quanto riguarda il botteghino sarà in grado di convincere tutti ora a qualcuno è piaciuto anche facendo un breve sondaggio nella mia pagina facebook però non credo che sarà un film in grado di mantenere viva la propria esistenza nella memoria degli spettatori per chissà quanto tempo quindi non sarà credo in grado di replicare quello che è stato in grado di fare invece un Bohemian Rhapsody con tutti i suoi difetti ripeto e un film come Rocketman con tutti i suoi difetti non credo proprio che avrà la possibilità di fare altrettanto per qualche diciamo in qualche modo mi ha ricordato Judy per quanto chiaramente Judy vada a raccontare la storia di un'attrice un film anche in quel caso potenzialmente interessante per quello che è il soggetto di base perché Judy Garland ha avuto una vita travagliata da un punto di vista della vita privata da un punto di vista pure della carriera però anche in quel caso il film secondo me non funzionava poi in realtà in quel caso il premio Oscar per René Zellweger è arrivato non so se succederà la stessa cosa anche per questo film anche se come già detto Jennifer Hudson probabilmente è il punto di forza migliore di questa pellicola staremo a vedere a me purtroppo il film come ho detto non è piaciuto ora non rimane che dire a voi la vostra opinione fatemi sapere se il film l'avete visto che cosa ne pensate se vi è piaciuto se non vi è piaciuto fatemi sapere se avete trovato gli stessi difetti che ho visto io oppure se magari vi è piaciuto e avete trovato dei punti di forza migliori quindi tutto quelle che sono le vostre opinioni scrivetele qui sotto tra i commenti io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per potermi aiutare a far crescere il canale e rimanere aggiornati su tutti i prossimi video ed inoltre se vi volete ulteriormente supportare a costo zero se dovete fare degli acquisti su Amazon io vi invito a farli utilizzando il link che trovate in descrizione io vi do l'appuntamento ad una prossima video recensione ad un prossimo video oppure anche nella mia pagina facebook Doctor Cinema alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi ci diamo appuntamento quindi ai prossimi giorni vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto